Chiesa, va ora per il sinistro, Nyang su di lui, riesce comunque a liberarlo, Simeone prova l'incursione per Benassi, Benassi ha lo spazio! Ancora! Ancora Benassi! Non esulta Marco Benassi e se lo fa, lo fa in maniera silenziosa per rispetto della società nella quale ha militato con 98 presenze, ma ancora una volta lui, Marco Benassi va a realizzare il gol dell'1-0 al minuto 28 per la Fiorentina, la Viola è in vantaggio sul servizio di Simeone, ottimo, il destro va a incrociare con Moretti in tardiva chiusura, Sirigu va ad osservare la sfera che entra alle sue spalle. Grazie a tutti!